Lei? Perché non ci chiamo del vino? Non tavole in cucchiaio se lo palla. Pauvario? Ma certo Linda. Linda. Abbiamo iniziato a cucinare vegano, solo vegano. Seta, tofu e così via. Lui invece? Ah, lui. Vabbè lui è la prima goccia. Ha mangiato qualcosa e poi è stato dormito. Le vuoi? Sì? Che coraggia? Non lo so, non lo so. Non lo so nemmeno chi è. Cos'è? Potrebbe essere un malato, un criminale. Non si parla la nostra lingua. E forse a me. Non è così difficile, forse a me non ti risponderà pure qualcosa. Oh, oddio. Quelle mani. Sorribili. No. Le mani di popolo. Ah, le mani di popolo. E le braccia. Ma dov'è? Perchè? Francesco Pisano raggiunge sul sudamerica e invece di fuori il capo indiano a Pampolpa e invece di persa. Sotto cosa aveva? Tutane, anche quelle rimane. E le stanno? Ah no. Eh? Perché avevo un pezzo a te. Dai. Vincere. Sbrigati Paolo. Tirali fuori. Fallo! Caccio, ma sei il mio po! Ma no, perché? Ma vai. Ma guarda questa saluta. Chi ci fai la saluta? Non l'hai guardato negli occhi? Sto. Ai 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 Barbara. Sento se vuol dire questo, eh? Povero Mario. Come è potuto essere così sceppa? Fammi convincere da cogliere lo straniero in casa mia. Solo che alla cosa di parla reagisce abbagliato. Oh dai! Mario! Oh! 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 Yeah